Qui abbiamo un jeans della linea Jack & Jones, un jeans appena arrivato con un lavaggio veramente meraviglioso. Ma prima di parlare del jeans voglio parlare della nostra tabella taglie espressa in centimetri. Piliate il vostro jeans, come in questo caso chiuso, andate a misurare quello che è la larghezza da lato a lato e fate riferimento alla nostra tabella taglie espressa in centimetri che vedete sulla vostra destra. Questo jeans ha un effetto veramente molto particolare perché ha tutto questo effetto lavato molto uniforme, non ha delle striature che noi chiamiamo questi lavaggi un po' a baffo. Ha un discorso di un 98% di cotone e 2% di elastano. Guardate con quale morbidezza io riesco a largare questo jeans. È leggermente il pantalone, il jeans più basso davanti più alto dietro. Questo per conferirgli una vestibilità logicamente più comoda. Per quello che riguarda il discorso della modellistica abbiamo sempre un modello a 5 tasche, quindi le 3 tasche sono davanti e dietro abbiamo le altre 2 tasche in riferimento a quello che riguarda la vestibilità di questo jeans. Vedetevi, il materiale è veramente molto morbido, non riesco a darvi la sensazione, ma vedetevi, è una tela veramente eccezionale. Taglie forte, uomo rimini, siamo sempre una taglia avanti. Taglie forte, uomo rimini, siamo sempre una taglia access. il soglie troppo di x attrezzo valore il fatto che abbiamo visto di questo Mannetto. Sì, oraし happens dieses settei esiamo adesso!